Buonasera a tutti, io sono Carolina Caligiuri, ho 12 anni e frequento la seconda G dell'esilio di un prezziato piazza Winkelmann. Per quanto riguarda il pianoforte sono seguita dalla professoressa Corda. Oggi eseguirò tre brani, che sono il primo, lo studio di Heller numero 5, il secondo, l'invenzione a due voci di Bach opera numero 1 e il terzo, il primo tempo della dell'esilio di Catturian. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.